Svaliggiavano case ed appartamenti in città a Campobasso e offrivano a pagamento la merce trafugata online. Arrestato 25enne, mentre per altri due complici il GIP non ha ritenuto esserci le misure di custodia cautelare. Infine, due minori sono stati denunciati a piede libero. Anche quest'anno a San Paolo Matese si è tenuta la festa del ringraziamento e degli anziani, una giornata di gioia alla presenza dell'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini, una manifestazione che ha origine nelle tradizioni agresti e religiose che si uniscono per festeggiare il raccolto e l'annata agricola andata bene. Un grande spettacolo frutto di un grande lavoro, migliaia di bottiglie, di tappi e di contenitori di plastica, tappi di bottiglie di spumante, e altro materiale che altrimenti sarebbe finito nella pattumiera, hanno dato vita a capolavori che si potranno ammirare per tutto il periodo delle festività natalizie nel centro di Venafi.